Allora, questa lapide ricorda l'evento che è stato nel 1917, il 30 maggio, dove morirono 16 persone. La parte che è crollata è la parte destra, a monte del fiume, praticamente la parte di là. Lì c'è stata praticamente l'esondazione del Seveso, si era formato come un laghetto in questa zona. Era una settimana che continuava a piovere, quindi figuriamoci la gente all'epoca non usciva nessuno da casa. Un giorno di sole l'esondazione, il laghetto che si era formato, sono accorsi a vedere il fenomeno. Diciamo che quando sono stati sopra il ponte, il ponte è crollato. Allora, il ponte, qui non c'è più un ponte sul Seveso. No, il ponte, questo è il ponte sul Seveso, che viene sottassato. A quello dove adesso passa il treno, lì? No, no, è questo il ponte sul Seveso, questo. Ah, ok, ho capito. Guarda che salta gatto è dalla parte là. No, salta gatto è quello là. Ecco, è di là, vedi con la bocchetta che esce là? Che là è stata gatto che prende l'acqua dal Vilorese. No, vabbè, io lì ho paura di andarci. Vieni, vieni.